buongiorno aiuto è mattina infatti c'è guardate i miei capelli ci sembra veramente un animale e niente il principino è lì che sta sbattendo la manina ecco sì anche su masha ok vabbè e niente oggi è una giornata un po' bruttina non so se si vede cioè bruttina cioè perché altro nuvoloso brutto e niente oggi facciamo un vlog così un po' casalingo perché non c'è niente da fare io mi sono appena seduta qui così che adesso devo cambiare Kevin è stata una tortura perché ho dovuto tagliargli le unghie non vi immagino non vi faccio immaginare le urla che ha tirato perché lui proprio non vuole essere sdraiato non vuole far sgambiare il pannonino non vuole far tagliare le unghie le unghie proprio ne dà seduto e ne ha sdraiato lui non vuole adesso è qua che fa il gioppino che tra poco cade come tirardila poverino vabbè niente perché praticamente piuttosto che sedersi su quella seggiolina lui ha deciso che invece lui ci starà in piedi giustamente e niente io ho appena finito di fare colazione abbiamo giocato un po' con la pentolina quella delle forme che sta imparando a mettere dentro non sa precisamente allora quale forma va in quale buco però se io gli indico il buco lui riesce pian piano girandolo infilarcelo dentro infatti sono contentissimo e adesso guardate che ci riprova Kevin ecco scendi che forse è meglio ah no devi salire con la manina bella bene mi sono accorta ora che ha spaccato una mano bravo Kevin mi sembrava che c'è poco rumore ci sta bene impari a salire in piedi sulla poltrona ma che versi fai ecco qui il bimbo è arrabbiato perché è stato cambiato è arrabbiato perché l'ho dovuto cambiare per toglierlo dal pigiama e è arrabbiato con me adesso vero? che sei arrabbiato con la tua mamma non ti puoi arrabbiare con la tua mamma perché vuoi stare in pigiama non si può che faccia? bebi birba bebi birba è stato bellino è stato bellino è stato bellino perché dovete capire che se io mi devo lavare i denti oppure mi devo pettinare prima lasciavo Kevin dentro con me gli davo anche lui il suo spazzolino si lavava anche lui i denti il problema è che il signorino poi non mi vuole più ridare lo spazzolino nonostante lo tenga anche mezz'ora non mi vuole più ridare più lo spazzolino e quindi dopo una tragedia toglierglielo perché poi lui lo porta in giro tutto bagnato e lo spalma ovunque tutte queste cose qua mamma mia capelli quindi niente adesso quando mi lavo io chiudo la porta anche perché a lui veramente non mi lascia stare due secondi allora qua dietro che di solito sbatte sulla porta adesso sentivo che non mi sbatteva più allora ho sbattuto io dall'interno per vedere se mi rispondeva e sentivo che parlava ho aperto la porta ed è lì con Masha dentro non è la cuccia vabbè letto fatto ora mi devo solo cambiare io e poi andiamo giù in giardino le gambane le gambane dov'è la pazza? eccola lei è la pazza gradino? ah vabbè c'è proprio così noi vediamo giù tutte le mattine a fare un girettino vero Kevin? gradino attento bravo certo di solito qui c'è la pozzanghera ma non c'è oggi non c'è vai vai avanti Kevin dai mi è andata Masha boh boh si è dispersa devo dire oddio c'è la sole negli occhi anche se non c'è il sole mi dà fastidio la luce che nonostante ci sia brutto il stesso nuvoloso c'è giusto uno spiraglio di sole là in alto non so se si vede devo dire che fa caldo cioè caldo però ecco c'è sul giubbino e c'è caldo e sotto solo tanto la maglietta a maniche corte quindi boh c'è un tempo un po' complicato Kevin devi andare a vedere la tua macchina andiamo a vedere ecco la tua macchina wow accendiamo la musica? ci va dentro anche la chiavetta con le sue canzoncine che ascolta sempre che mi piaccia sei pronto? via ciao 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 Ok, come avete visto, stiamo dormendo insieme, parlo ad alta voce ovviamente perché dorme, bassa voce scusate, e niente, sono qua con lui perché, boh, così, voglio stare un po' qui con lui, stanotte ha dormito insieme a noi perché ieri sera non riusciva ad addormentarsi, continuava a fregnare, allora dormito con noi, e allora adesso il pomeriggio del, il pomeriggio, mamma mia, non riesco a parlare, per il pisolino del pomeriggio mi sono messa qua io per farlo addormentare, lui dorme da solo sempre, però, boh, così, mi piaceva stare lì vicino e niente, poi tra poco il gattaio lo via, però intanto sono qua con lui, intanto io sono qua abbracciata a lui, un po' gioco col cellulare e niente. E niente ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao!